Eccola, prendiamo ancora col fiatone, che tempo ha fatto innanzitutto? Allora, 10 piove 3 e 4, ho fatto 58 e 30 più o meno, quindi buon tempo di corsa, adesso corriamo a puntida. Gli organizzatori parlano di 6-700 partecipanti? Almeno 400 mi hanno passato, quindi confermo. Comunque un ottimo punto di partenza, aver riportato una gara gallarata con 5 anni. Prima settimana, io sono bellissimi in centro a gallarate, oggi tantissima gente, quindi per correre per la città, quindi sicuramente qualcosa da riproporre anche l'anno prossimo. Flavio Restelli, i primi stanno arrivando, la gallarantenne, primo bilancio, aver riportato una corsa a gallarate dopo tanti anni. Fantastica gente, fantastico entusiasmo, molta gente che aveva voglia di ritrovarsi, così è stato, questa bellissima giornata di sole, sentiamo veramente tante persone emozionate di ritornare a ritrovarsi e di più questa bella cittadina che è ritornata a risplendere. Vi aspetto tutti anche qua, anche qua all'arrivo davanti a questo bellissimo museo di arte moderna e sarà un bel prossimo anno. Bilancio, quanta gente ha partecipato? Bilancio, 600-700 persone ritrovate, parte corrigione e parte cittadini, quindi direi bilancio positivo, grande positivo. C'è già una certezza, appuntamento l'anno prossimo? Potrebbe essere, poi penseremo a nuove soluzioni, penseremo a intercorsi e sentiremo anche le vostre proposte. Vi attendo poi verso il fine ottobre, che faremo la consegna alle associazioni e premeremo anche la foto più bella con un piccolo gadget. Grazie a tutti ancora di essere intervenuti. Assessore Claudio Mazzetti, siamo ancora in attesa dell'arrivo del sindaco che ancora non è arrivato, 600 persone iscritte, dicono gli organizzatori, il primo grande successo è aver riportato una corsa a Gallarate dopo 5 anni d'assenza. Devo dire che è stata un'emozione, un'emozione viverla, è stata un'emozione anche organizzarla, ci siamo rimessi in gioco dopo tanti anni, abbiamo trovato una bellissima giornata, tantissima gente sorridente e con tanta voglia di fare sport, la storia di farlo insieme e di riprendere una gran bella abitudine. Diamo appuntamento già l'anno prossimo? Direi di sì, assolutamente, visto il successo non possiamo fare altro che replicare, aumentare i numeri e continuare le belle tradizioni. Potremmo sapere il suo tempo personale, 5 km in? 29.